Dobbiamo capire perché in discorsi giornali... Anche noi, anche noi, anche noi... E tu hai capito, studiando il fenomeno del caterraduro, che senso ha? Cioè, noi sono nove anni che studi, ma continuiamo a rifarlo. Il senso del caterraduro? Ma, senza il caratturo, credo che siano tutte le persone che sono qui davanti oggi e che... Ecco il senso, Massimo, voi ci vediamo davanti e noi lo capivamo. Noi ci diventiamo a tutti, ci vediamo, lo facciamo. Beh, allora, complimenti per la tesi che verrà pronta quando? Eh, spero, spero, spero. Devi intervistare tutti i presenti, poi? No, almeno una metà, una metà. La facciamo da solo o la copiamo su internet? La prima parte la copiamo, lì si cambia. Perfetto, perfetto. Una bella testa dell'Università Italiana è stata così, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie.